Era la tragica riunione della mascherata, dove ogni anno, con terribile anticipo, si ritrovarono presso la centralissima casa del ragionier Giaccaio, l'intento di ideare un'esibizione per l'attesissimo legione, esternando tutte le professioni occupate in un intero anno solare. 9 gennaio, 48 giorni al cardenale. Allora ragazzi, nonostante che ci mettiamo? No dai, siamo arrivati a due mesi, adesso ci stanno un po' alcazzare la strada. Mettiamo la partita, dai! Allora, ci facciamo questa strada. Se ci incontriamo sull'attualità... Allora, l'attualità la lasciate. Dai, siamo arrivati a fare strada. No ragazzi, entrambi vanno arrivati a scolgere la strada. C'è un'altra cosa di baluncio strada. Un po' scondata. Facciamo il muro! Forte, 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 forte. Scirò, come i cuori della palla. Scirò, finirò, che il dolce sentimento. Scirò, finirò, che il dolce sentimento. Sarà bene, scirò, scirò, scirò. 16 gennaio, 41 giorni al carnevale. Ma no ragazzi, non perde la politica. Che ne so, mettiamoci sui balletti, sui corsi. Ancora qualsiasi? Ti amiamo, ma no. Queste non è che io forno! Cosa parte? F**k you! F**k you! F**k you! F**k you! F**k you! F**k you! E' la stafisa, e' ta' 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 Una bollita, una bollita, una bollita, e' tu bochita Una bollita, una bollita, una bollita, e' tu bochita E' il mio salvo che non è real Ehi, che non è 27 giorni a starnare E' la mia bollita, una bollita, una bollita, un bollita, una bollita, una bollita A che bollita, una bollita, una bollita Ma che c'è un bambino che c'è un bambino? E' un brabo delizino E' il dà che cosa usiamo il fatto E' un brabo delizino E' un brabo, c'è un brabo! Ciò dà, e' il bambino, bella il filiaton! Ma si bocciò su questo pianeta Lei che determina le sorti di tutti noi Madre da noi La proposta che c'era Giovanni Emato Buonasera Buonasera Calde Sensuali Accompagnate da Samo Alcchio di Avello Patrimonio della Musica La Sera Certo D'Otta Giorni e D'Otta Natura In una Sera di Canto Buonasera E fa un aperitivo a quelli che potrebbero essere i caldi desideri del massimo Desideri che sono pronti a schiudersi Quelle schiuvose bonde Sono desideri femminili Se la ballano e se la cantano Queste due salette Femmina e giovane e mature Pronti alla fine una serata All'insegna della Biscoteta Giovanni Emato D'Otta Natura Della quale avvincolare attraverso il corpo sanguario Delle molenze infernali Delle gambe geometriche E una volta giovane sedurre E' un'aggressiva proposta del mondo naturo Femmina e giovane Femmina e giovane E' un'aggressiva E' un'aggressiva Femmina e giovane Femmina Eccola qua, l'altro posto di scoperta, Giovanni Maduro 6 febbraio, venti giorni al carnavale Buo ragà, come cazzo ci avevo dormito prima volta a studiare i ciattari, dai che non può essere Ma poi con le maternature, non mi capo di farlo Cambiato l'unico proprio, ci stiamo vanno, vanno, vanno Eccolo però, si, si, si Walter che fa Miley Cyrus sulla palla dei boni trini Nooo, no, no 16 febbraio, dieci giorni al carnavale Dai ragazzi, no, vanno, dievi giorni, dai La serie di famiglia sarà quest'anno No, 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 no Ma allora signo davvero stanno? A chi? A Cine? A Cine? A Cine di Rambani Cine per Cine per Cine di Rattina La qua, Francesco Gabbani all'avato e Gabbani oggendali Scarba La n nacionalistra che coronavitura adesso è il Brunria Francesci Francesco Gattani Francesco Gattani Francesco Gattani Francesco Gattani Francesco Gattani